ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda puntata della lockdown series allora ieri abbiamo un po smanettato su quello che era la posizione della faccia del bastone la traiettoria su un colpo dritto e poi vi ho fatto l'esempio su uno slice e su un su un hook ma sappiamo quanti sono i voli di palla allora i voli di palla sono nove quindi oggi vi farò conoscere in maniera semplice in maniera grafica come sono questi nove voli di palla e come si fanno ad eseguire i nove voli di palla e poi nelle prossime puntate vedremo gli extra voli di palla perché esistono altre traiettorie non classificabili ma che ovviamente ve le dirò e quindi se siete pronti prendete magari un foglio una penna e scrivetevi tutto così quando sarete in campo pratica a giocare saprete perché la palla è andata a destra perché è partita a sinistra perché ha girato poi a destra e quindi in base a questo saprete anche come modulare il vostro swing quindi mi raccomando pronti via eccoci qui come promesso allora foglio di carta abbiamo una matita una penna rossa e una penna blu come abbiamo visto ieri la penna blu equivale alla traiettoria della testa del bastone la penna rossa equivale alla faccia del bastone allora intanto vi spiego la traiettoria che cos'è la traiettoria allora se questo è il nostro bersaglio ok e questa è la nostra direzione ok avremo una traiettoria dritta del bastone quando traiettoria stessa sarà esattamente sulla direzione ovviamente la traiettoria io ve la segno dritta in realtà la traiettoria giusta del bastone come sappiamo bene è un leggero cerchio però noi la semplificheremo mettendola dritta così è più facile da capire quando il nostro bastone questa è sempre la nostra direzione quando il nostro bastone arriva dall'esterno vuol dire che la traiettoria è da fuori verso dentro quindi taglia la nostra direzione quindi l'esterno interno ok e poi abbiamo un'altra possibile traiettoria quindi le traiettorie sono tre rimettiamo sempre la nostra direzione come abbiamo fatto prima la nostra direzione nostra traiettoria dello swing è da dentro a fuori ok quindi abbiamo una traiettoria dritta abbiamo una traiettoria da fuori a dentro e una traiettoria da dentro a fuori quindi le traiettorie delle teste del bastone sono tre adesso andiamo alla faccia del bastone quindi è come come dico i miei allievi la traiettoria è come se fosse la regina e invece la faccia del bastone fosse il re ok re e regina quindi abbiamo bisogno di tutti e due per fare andare la palla dritta la faccia del bastone quindi quante posizioni abbiamo di faccia del bastone rimettiamo sempre la nostra traiettoria la nostra direzione scusate allora la faccia del bastone è perfettamente dritta in questo caso quindi quando punta al nostro bersaglio poi avremo nel secondo caso una faccia del bastone chiusa quindi che punta a sinistra del bersaglio quindi qui è chiusa qui è dritta e poi avremo la la terza tac sempre la nostra traiettoria avremo la faccia del bastone open quando sono dato l'inglesismo quindi anche qua avremo tre posizioni dritta chiusa aperta mixando la traiettoria della testa del bastone con la faccia del bastone avremo nove voli di palla i nove voli di palla sono questi adesso vi disegno allora partiamo dal dritto quindi il nostro dritto quindi colpo dritto lo slice abbiamo detto che è una palla che parte dritta gira a destra e poi abbiamo il nostro simpatico hook che è una palla che gira a sinistra però abbiamo anche il pull che è una traiettoria perfettamente dritta a sinistra ma abbiamo anche il push una traiettoria perfettamente dritta a destra sul pull posso avere un pull slice quindi con la palla che gira a destra un pull hook con la palla che gira a sinistra idem nel push posso avere un push hook che la palla gira a sinistra o un push slice questi sono i nove voli di palla e li nomineremo e numereremo scusate numereremo così dopo andremo a vederli tutti uno per uno su come si fanno quindi ricordatevi traiettoria faccia del bastone nove voli di palla eccoci al primo volo di palla il pull hook il pull hook praticamente è una palla forse molto probabilmente la palla che si sperde di più a sinistra possibile perché allora per fare un pull hook che cosa deve succedere deve succedere che la traiettoria del nostro bastone è dall'esterno rispetto alla direzione ok ma ulteriormente l'aggravante è che la faccia del bastone è ancora più a sinistra e quindi avremo una palla che andrà rispetto al nostro bersaglio è una palla che partirà a sinistra e girerà ulteriormente a sinistra quindi molto probabilmente la palla che si sperde di più a sinistra il secondo invece è un pull il pull è un colpo in cui la traiettoria del bastone è a sinistra rispetto alla direzione ma anche la faccia del bastone è sulla stessa medesima linea quindi praticamente è una palla dritta però in realtà rispetto alla mia direzione che ho preso è una palla che finirà a sinistra del bersaglio quindi dritta sì però a sinistra quindi non me la troverò mai in green il pull slice invece è sempre un errore dettato dalla traiettoria perché la traiettoria è sempre dall'esterno ma in questo caso la faccia del bastone punta in uno spazio punta più a destra della traiettoria quindi è una palla che curverà e potrebbe anche finire in green perché ovviamente la palla farà questo tipo di volo partirà a sinistra per poi girare a destra potrà girare potrà finire qui potrà finire qui potrà finire qui a seconda di quanto io ho aperto la faccia del bastone sicuramente la palla non partirà dritta questi primi tre voli di palla sono denominati pull quindi pull hook vado a sinistra pull vado a sinistra con un colpo dritto pull slice parto a sinistra e giro a destra quanto dipende eccoci agli altri allora siamo al 4 il 4 look look è praticamente un colpo in cui la traiettoria del nostro bastone è fantasticamente dritta ma la faccia del bastone mira a sinistra quindi avremo una pallina che sicuramente rispetto alla nostra direzione girerà a sinistra quanto dipende sempre da quanto è chiusa la faccia del bastone una palla dritta e ragazzi palla dritta è l'unicorno quindi ho una faccia del bastone dritta scusate una traiettoria dritta e una faccia del bastone dritta perfettamente e poi quando ci andrenteremo bene nella tecnica come ieri vi ho un po' spiegato la faccia del bastone la palla deve essere colpita perfettamente nel centro del bastone altrimenti avvengono delle altre situazioni che ci possono far stortare una palla perfettamente dritta quindi con queste due caratteristiche noi quindi diamo semplice traiettoria dritta faccio il bastone dritta colpo perfettamente dritto e quindi andrà in buca slice invece è un colpo in cui la traiettoria è perfettamente dritta ma la faccia è aperta quindi la mia palla andrà sicuramente a destra quindi abbiamo detto quanto boh dipende quanto io ho aperto la faccia del bastone quindi da tanto a poco eccoci agli ultimi tre voli il push hook il push hook ha una traiettoria dall'interno verso all'esterno e una faccia del bastone chiusa rispetto alla traiettoria quindi otterremo una palla che rispetto alla direzione partirà presumibilmente a destra e gira a sinistra quanto poco un po di più di più ancora sempre determinata dalla quanto è chiusa la faccia del bastone poi abbiamo il push il push è una traiettoria bellissima perfettamente dritta però a destra perché la traiettoria è verso destra quindi dall'interno verso l'esterno e la faccia del bastone è aperta quindi ci troveremo una palla che rispetto a come eravamo mirati finirà a destra del bersaglio nel push slice che come per abbiamo visto prima il pull hook dovrebbe essere il colpo che si allontana di più dal bersaglio perché la traiettoria da dentro a fuori ma la faccia del bastone mira a destra quindi potenzialmente è un colpo che rispetto alla mia direzione parte a destra e gira a destra di quantità infinita questi sono i voli determinati dal push allora avete capito come vola la palla cioè secondo quali leggi della fisica può andare a destra piuttosto che a sinistra allora in questi nove voli di palla che dovete comunque stampare bene in testa non abbiamo parlato del punto di contatto cioè dove prendo la palla sulla faccia del bastone che quella è un'altra determinante incredibile che può variare le nove traiettorie che vi ho detto i nove voli di palla però quella la esamineremo più avanti adesso cominciamo col semplice che però c'è tanta roba e sono i nove voli di palla quindi tenere sempre in considerazione quella che è la traiettoria del bastone quella che la faccia del bastone quindi la regina che è la traiettoria del bastone e il re che è la faccia del bastone che conta moltissimo loro due ovviamente devono andare d'accordo per fare un volo perfetto per fare un volo che avete studiato o volete fare quindi se avete dubbi perplessità se avete domande scrivetemi come al solito e poi metterò questi questi video qui li metterò nella stories e quindi potete sempre andare a rivederli e ragazzi che altro dirvi ci vediamo domani intanto studiate i nuovi voli di palla perfetto